Ciao, ciao, oggi facciamo le spinacchine, che sono il consumante di fare le spinaci, adacciate le ridure, per insegnare a farle. Per prima cosa, pullate il pollo e gli spinaci. No! E' tutto! Aperta! Tutto, tutto qua! Tutto qua! Bella! Mi prendi le loro pucca. E' tutto, Dato! Aperta! Aperta! Pullate anche i spinaci. Quando avete pollato tutto, vete tenendo i ingredienti. Aperta! 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 E' mercolata tutto. Dopo che ha detto è mercolato, messiamo iniziale a fare le spinacine. ecco la prima piccina rassate de lava e bărbătate Quando avete fatto, mettete mezz'ora in frigo. Dopo bere i cacchi, siete forno e bella padella. Non le fate di più a voi. Ecco le pinacine. Ecco le pinacine.